Beh sì, noi oltre ovviamente alla protesta stiamo e abbiamo organizzato questo referendum e attendiamo peraltro a giorni dal Comune una risposta, facciamo anche una proposta. Visto che no, stanno parlando del fatto che solo il digestore anaerobico possa in qualche maniera trattare i rifiuti di tipo organico che producono sia le famiglie che anche le attività commerciali. Invece proprio a pochi chilometri da noi a San Marino hanno anche un altro tipo di esperienza con un sistema aerobico in questo caso, quindi non anaerobico, molto meno impattante fatto con delle celle a container, quindi modulabile e distribuito alla fine sul territorio, in quel caso di San Marino ma potrebbe essere la stessa cosa nella provincia di Pesorubino che alla fine produce un buon compost di qualità, che non ha male odori da quello che dicono e vorremmo appunto fare una visita per andarlo a visionare ed è soprattutto a un costo molto basso la realizzazione di un impianto di questo tipo quindi alternative a quello che vogliono proporre ci sono noi vorremmo che si aprisse un dibattito serio su questa materia ma soprattutto su questa vicenda perché è stata tenuta all'oscuro di tutti, questo bisogna essere onesti e ammetterlo e anche l'ultimo convegno che c'è stato di Lega Ambiente e anche lì non sono stati i dati scientifici noi produciamo nella Comeaset 21.000 tonnellate di rifiuti organici di verde non tantissimi e alla fine la spesa pro capite per le famiglie è di circa 6 euro all'anno a persona, quindi non è che stiamo parlando di cifre che l'Aset non riesce a sostenere sfatiamo sta cosa perché non esiste allora iniziamo a ragionare su cosa vogliamo e come vogliamo trattare i rifiuti in maniera seria e noi siamo disponibili vogliamo invece andare a sbattere contro un muro e vedere le barricate a bell'occhio falcinetto e siamo disponibili anche a questo, dipenderà dall'amministrazione il cosa voler fare Qual è l'iter adesso dopo la raccolta firma e dopo averle depositate in comune qual è l'iter che si prospetta? Ma da quello che ci hanno scritto, perché ce l'hanno scritto il 29 quindi proprio ieri si è riunita per la prima volta la commissione che valuta il quesito referendario il quesito referendario dal punto di vista tecnico e amministrativo è stato approvato nel senso che le firme raccolte e validate sono state 440 in totale per cui il referendum è valido, bastavano più di 300 firme e stiamo tendendo l'esito della commissione che dovrà dire il quesito è ammesso, a quel punto il sindaco dovrà indire il referendum probabilmente da luglio in avanti dopo l'elezione regionale Grazie